Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Enzo Paolo Turchi, noto personaggio dello spettacolo, si è trovato al centro di una polemica durante la sua partecipazione al Grande Fratello per alcune dichiarazioni riguardo al defunto coreografo Marco Garofalo. Le sue parole hanno diviso il pubblico tra chi le ha considerate inappropriate e chi le ha interpretate in modo diverso. Durante una conversazione con la concorrente Shaila Gatta, Turchi ha ricordato il ruolo di Garofalo come suo assistente, ma ha suscitato sconcerto per il modo in cui ha descritto il suo contributo, definendolo un non grande ballerino che faceva le pulizie. Questo ha generato reazioni negative sui social media e ha portato alla diffusione del video della discussione. L'autore televisivo Marco Salvati è intervenuto difendendo l'importanza del lavoro di Garofalo e criticando Turchi per la mancanza di rispetto. Alcuni sostengono che le parole di Turchi siano state fraintese e che intendesse solo sottolineare le difficoltà che Garofalo ha affrontato nella sua carriera a causa di un infortunio. La polemica ha diviso il pubblico con alcuni che condannano le parole di Turchi e altri che difendono la sua buona fede. È probabile che una volta fuori dalla casa del grande fratello, Turchi possa chiarire la sua posizione. Nel frattempo, il dibattito è messo acceso su quanto accaduto.